Democrazia rappresentativa e suffraggio ai minori. E' stato questo il titolo della Lectio Magistralis che il professore merito di filosofia del diritto presso l'Università La Sapienza di Roma, Francesco Mercadante, ha tenuto nell'aula magna dell'Ateneo di Messina, insieme ad una vasta platea stracolma di giovani degli istituti scolastici locali. Si trovano in difficoltà i politici perché il sistema li obbliga a inventarsi un regime che ha nel consenso il suo fondamento. A loro volta i cittadini hanno il sistema con delle falle che non riescono a colmare. Quindi il politico per la sua parte difetta, la base per la sua parte si astiene, latita. E in questa latitanza la democrazia non può trovare il germe del suo rinnovamento.